Musica Tomorrow Musica Vediamo Frank, che facciamo oggi? Andiamo sul monte Nuria, facciamo Nuria a Nurietta forse. Ma da dove partiamo, lo vuoi dire? Partiamo dal rifugio di Borgovelino e arriviamo in Beta, ma la cosa più importante è che stiamo partendo da ponte. Grazie per la visione! Ragazzi siamo arrivati al rifugio Romolo de Angelis, adesso vi facciamo fare un piccolo tour perché questo rifugio merita. Grazie a tutti i manutentori e a tutte le persone che collaborano per mantenere questi posti belli, puliti, funzionali. Vi ringraziamo e andiamo a fare un tour. eccoci qui. Benvenuti! Allora c'è un bel tavolo, un bellissimo cammino, enorme. un paio di letti. La stufa a legno, quindi ci può venire pure l'inverno. la dispensa, la bombola. Oh! bello! E sopra ci saranno almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 posti di letto. Bellissimo, bellissimo perché c'è un altro piano. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Beh, ci sta. Sono dei materassi. Venite, venite. Dai, una bella manzarda. Ci si sta, col sacco a pelo si sta benissimo. C'è anche questa finestrella. Fantastico. Con un bellissimo panorama. No, no, questo è... Questi sono un gruppo di forestradisti che si occupano della manutenzione e del rifugio. Li ringraziamo. Una bella salitina. Eccoci. Abbiamo superato la parte più boschiva e adesso affrontiamo questa salita almeno 47%. Certo che l'Italia è spettacolare. Comunque vai, voi amici cittadini come me, provate qualche volta, provate. Paccato, ragazzi, che abbiamo visto un cervo scappare, ma bello, eh. Con il palco enorme, quindi. Bello. Poi porta bene. Eccoci, ragazzi. Eccoci, ragazzi. Ecco qua. Non so se vi ricordate la pizza con gli sprizzoli. Questa è una specialità del burgovelino. Adesso discendiamo perché si aspetta un bellissimo barbecue a casa di Francesco, nella sua casa a ponte. Ciao. Eccoci qua. C'è anche il medico Ricciardo. Eeeeeeee. Grande! Grande! Critch uovovovole direttamente dal suo canale. Aiai. Abraciola. alla salute mangiate frutta